Andiamo! Ciao, Josh! Ciao, Blue! Felici di vedervi! Qualcuno è entrato in casa nostra e ha messo tutto in disordine! Aspettate! Ci aiutate voi? Davvero? Ottimo! Tranquilli, vi aiutiamo noi! Grazie a tutti! Dobbiamo capire qual è il nostro pranzo! Sì! Di chi sono queste cose? Siamo molto confusi! Ho capito il problema! Ok, quale scodella di cereali appartiene a Papa Orso? Quella più grande! Eccola la mia scodella! Vi ringrazio! Oh, gran bel lavoro! E quale scodella di cereali appartiene a Mamma Orso? Quella media! Ma tu guarda, eccola! È proprio la mia scodella di cereali! Ha un buon profumo! E come? Molto bravi! Non scordatevi di me! Oh! Vedete una scodella di cereali per lui? È quella più piccola! Questa è la mia piccola scodella di cereali! Che piccola! Oh, grazie davvero! Ora ci aiutate a trovare i bicchieri di latte? Ci date una mano? Ok, bene! Ok! Quale bicchiere di latte appartiene a Mamma Orso? Quello medio! È la giusta quantità di latte per me! Gran bel lavoro! Oh! Qual è quello dell'orsetto? Quello più piccolo! Il latte mi serve per diventare grande! Come Papà Orso e Mamma Orso! Oh! Sì! Ok! Quale di questi è il bicchiere di Papà Orso? Quello più grande! Per Papà Orso è la giusta quantità! Vi ringraziamo tanto! Figuratevi! Ehi! Dobbiamo ancora scoprire qual è la nuova storia preferita di Blu, amici! Ci serve l'ultimo indizio! Ciao! Ciao! Delite! Presto! Guardate! È il nostro album fotografico dove teniamo tutte le nostre foto! Volete dare un'occhiata? Oh, bene! Guarda, Blu! Queste sono fotografie del tuo primo giorno di scuola! Oh, no! Queste fotografie sono tutte in disordine! Potete aiutarmi a rimetterle in ordine? Oh! Ottimo! Dunque, mi direste, guardando le immagini, che cosa ci raccontano? Oh! In quella si salutano! Ah, certamente! Tu hai detto ciao a Magenta! Oh! E dopo che cosa è successo? In quella c'è il tavolo per pitturare! Ma è geniale! Tu e Magenta siete andate al tavolo per pitturare insieme! E poi cos'è successo? In quella stanno pitturando! In quella stanno pitturando! Tu e Magenta avete voluto scambiarvi i vostri bei disegni! Wow! Questa era una bellissima storia sul primo giorno di scuola di blu!